Dall'apertura con Donato Renzetti e l'orchestra regionale della Toscana a Anane Trepco e poi il corpo di ballo e l'orchestra dell'Accademia della Scala ma anche il debutto di Ospetec nella regia teatrale e gli appuntamenti con Monti, Masseroni, Foglietta e Elena Sofia Ricci solo per nominarne alcuni. È la Fondazione Guido D'Arezzo adesso a tracciare il bilancio della stagione concertistica e di quella al Teatro Petrarca. Il teatro si è confermato la nostra punta di diamante perché sostanzialmente le due repliche che offriamo sempre al pubblico a retino sono andate quasi sempre esaurite, tra l'altro anche con nuove proposte di nuovi mattatori. Altrettanto bene mi sento di dire è andata la stagione concertistica particolarmente bene quest'anno. Devo dire che il cartellone quest'anno presentava nomi importantissimi, quasi in esclusiva per Arezzo e faccio riferimento alla soprano russa Netrebko, ma anche la English Chamber Orchestra. Abbiamo nuovamente avuto l'orchestra del Teatro del Maggio ad aprire la stagione e quindi anche su quel fronte lì, dove inizialmente sicuramente abbiamo durato un po' fatica a ritrovare il pubblico a maggior ragione dopo la pandemia, mi sento di dire che abbiamo segnato dei punti importanti. Archiviata con successo quest'ultima stagione, si pensa già al futuro. Stiamo già lavorando per la stagione teatrale prossima, a breve ci vedremo con il nostro direttore artistico musicale Giovanni Zanon. Inizieremo a fare le prime proposte, a brevissimo stiamo lavorando invece su un calendario di eventi musicali, sulla falsariga di quello che è avvenuto l'anno scorso. Naturalmente tutto questo lavoro, e ci tengo sempre a dirlo, in collaborazione con operatori della città, perché credo, anzi ne sono certo, il ruolo della fondazione è quello di valorizzare lì dove ci sono delle eccellenze in città, di lavorare, di esaltare queste eccellenze e non di offuscarle. Grazie. Grazie.